Ciao a tutti, bentornati ad un nuovo appuntamento con i libri. Quest'oggi parliamo di un romanzo per ragazzi uscito qualche tempo fa di un'autrice italiana che già chi segue il programma Bookmania da tempo avrà imparato a conoscere. Mi riferisco a Elisa Puricelli Guerra con Fuga dal Paese delle Meraviglie, pubblicato dalla casa editrice PM. Un romanzo che, come vedete, fin dalla copertina risulta essere assai intrigante. Ebbene, il Paese delle Meraviglie ci ricorda la famosa storia di Lewis Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie e Elisa Puricelli Guerra ha deciso di raccontare la storia non detta, diciamo così, della regina di cuori che qui conosceremo come la futura regina. Non ha esattamente un nome perché nel regno da cui proviene nessuno ha un nome fino all'età di 14 anni e lei ne ha soltanto 13, ma ha già un bel caratterino. La protagonista, la futura regina di cuori, ha un futuro che la aspetta veramente ravvicinata perché al compimento dei 14 anni dovrà sposare il 51esimo pretendente e diventare così a tutti gli effetti la regina di cuori. Ma lei non ha nessuna intenzione di prendere questa strada, non ha nessuna intenzione di sposare il primo che le capita, anzi lei ama rifugiarsi nei libri, in altri mondi, in altri posti, in altri pensieri. Purtroppo il Paese in cui vive, il Paese delle Meraviglie, è un Paese pieno di regole, di persone estremamente rigide e quindi cosa decide? Decide di fuggire, soprattutto nel momento in cui riesce a scoprire che il tempo non è qualcosa di astratto, ma è un uomo e ha tutta l'intenzione di convincerlo a bloccare il tempo, a lasciarla ai suoi 13 anni in modo che non arrivi mai ai 14, quindi non sia nella necessità di doversi spostare, ma restare libera come vuole. Chiaramente riuscirà a fuggire dal palazzo nonostante diversi inghippi e avrà una serie di peripezie che le farà capire che cosa c'è attorno al Paese delle Meraviglie, le farà conoscere anche il tempo, ma non solo, conoscerà anche tantissimi altri personaggi molto curiosi e intriganti, avremo modo di vedere tanti personaggi che abbiamo conosciuto nel Paese delle Meraviglie, a partire anche dal gatto del Cheshire, questo gattone enorme ed estremamente saggio, ma anche dispettoso. Un romanzo questo che è pieno, è ricchissimo di avventura, di coraggio, ma è anche un inno all'amicizia, con questo stile fresco e brioso di Elisa Puricelli Guerra che riesce a catturare qualsiasi lettore di ogni età, chiaramente consigliato particolarmente a un pubblico molto giovane. È un romanzo di formazione, di avventura, è ben scritto e soprattutto è estremamente coinvolgente. Ma quello che forse è anche il pensiero finale alla lettura di questo romanzo è questa grande idea di amicizia, perché da soli siamo forti, ma in gruppo lo siamo di più. Un'autrice che ha avuto modo di intervistare qualche anno fa per uno dei suoi romanzi, che anche questi vi consiglio, che si intitola Cuore Nero, e che ha avuto anche un notevole riconoscimento qualche anno fa con altri suoi romanzi, tutti scritti per ragazzi. Un'autrice che vi consiglio, quindi per anche un regalo a ragazzi, ma anche a voi stessi, se vi piacciono questo tipo di letture, e soprattutto in particolare questo, Fuga dal paese delle meraviglie. Una futura regina che vive un'avventura per non diventare regina. Un cavaliere che vive la sua prima avventura cavalleresca e una banda di ladri che l'avventura ce l'ha nel sangue. Ah, dimenticavo, c'è anche un gatto, non penserete di esservi liberati di lui, vero? Ebbene, consigliatissima questa lettura sia come autoregalo che come regalo. Intanto vi saluto, vi auguro una buona giornata di lettura e appuntamento alle persone.